Per venire incontro alle esigenze che le diceva, abbiamo introdotto il decreto legge approvato durante il Consiglio di Ministri ieri, martedì, misure di sostegno immediato ai lavoratori e alle imprese interessate alle ultime misure del DPCM del 24 ottobre. Contiene interventi, questo decreto legge, da 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto. Tra questi vi è un contributo a fondo perduto, rivolto alle attività maggiormente colpite dalle nuove restrizioni e poi le imprese e i settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno un ristoro con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi presi dal decreto rilancio. L'entità degli importi corrisposti varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza con il decreto rilancio, in funzione del danno economico subito dalle categorie, quali ad esempio bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, taxi, noleggio con conducente, attività recettive, centri sportivi, cinema, teatri, altri centri ricreativi e discoteche. La plantella dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro, con un ristoro pari al 10% del cauto del fatturato e limite massimo di 150 mila euro. Per coloro che avevano già presentato domanda per i contributi del decreto rilancio è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre. Potranno richiedere il nuovo ristoro con l'erogazione prevista entro il 15 dicembre anche le attività che non avevano richiesto i contributi del decreto rilancio e quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro. Inoltre il decreto finanzia ulteriori sei settimane di cassa integrazione per i lavoratori delle attività interessate alle restrizioni nonché indennità specifiche per autonomi, per intermittenti del mondo dello spettacolo, del turismo e dello sport. Sono previste anche misure di sostegno alle attività coinvolte come l'ulteriore estensione del credito di imposta sugli affitti per tre mesi, la cancellazione della seconda rata IMU per il 2020 e fondi di sostegno diretto per i settori più colpiti come turismo, editoria, fiere, agricoltura, pesca, sport, dilettantistico. Grazie. A facoltà di replicare il deputato Viscomi. Prego. Grazie signor Presidente. Mi rassicura e rassicura il Partito Democratico la mole degli interventi e il suo impegno per garantire tempestività e semplicità nel sostegno alle imprese e ai lavoratori coinvolti nelle misure emergenziali. Impegno del Governo che mi consente deve diventare obiettivo anche dei sistemi burocratici interessati. Questo perché fra norme e fatti, tra politica e politiche, il termine medio è organizzazione, mai come in questo periodo di emergenza, abbiamo potuto verificare quanto sia importante adottare una logica di sistema superando la frammentazione o la frantumazione delle competenze amministrative in una prospettiva che tenga insieme le giuste ragioni dei tanti soggetti coinvolti. Mi consenta solo di portare un esempio. La recentissima disciplina del Fondo Nuovo e Competenze previsto dal Decreto 34 pone come termine finale per la presentazione delle richieste il 31 dicembre a fronte di una procedura complessa che prevede il coinvolgimento negoziale di una pluralità di soggetti pubblici e privati, tanto da revocare in dubbio nell'opinione dei diretti interessati la possibilità di rispettare il termine stesso di fine anno, una buona idea che rischia di naufragare. Altri vicende analoghe potrei qui ricordare. Il fatto è, signor Presidente, che una logica di sistema richiede un elemento unificante e questo è dato dalla nostra stessa Costituzione che la solidarietà pone come dovere inderogabile e come elemento vivificatore di una comunità. Lo ha ricordato più volte il Presidente Mattarella. La forza principale del Paese è il senso di comunità, il non sentirsi soli di fronte all'ignoto della vita e ancora più soli di fronte alle incertezze della pandemia. Per questo l'attenzione al tempo e al modo degli interventi di sostegno alle categorie debole, agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori, ai lavoratori precari, di settore e filiere fragili, resi ancora più fragili da recenti provvedimenti, è l'unico modo per mantenere quel senso di comunità che costituisce la forza di questo Paese. Per questo, signor Presidente, ferirlo sarebbe la più grave delle colpe e noi non possiamo permettere che questo accada. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 18-40. I deputati Gelmini ed altri, concernente chiarimenti in ordine alle risorse da destinare al ristoro dei danni conseguenti alle limitazioni alle attività imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Il deputato Valentini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmatario. Prego. Grazie, signor Presidente del Consiglio. Con questa nostra interrogazione urgente vi chiediamo di dare certezze a tutti quei settori economici che sono stati duratamente colpiti dal DPCM del 24 ottobre e che hanno scoperto domenica scorsa di essere nuovamente tornati dentro l'incubo del semi-lockdown. Si tratta di pubblici esercizi, bar, ristoranti, piscine, palestre, oltre a tutto il mondo dello spettacolo, che sono stati chiusi da marzo a giugno e che, oltre al danno, ora debbono anche subire la beffa. Sì, perché queste attività non hanno riaperto per la scomparsa della pandemia, ma perché hanno effettuato rilevanti investimenti per adeguarsi a protocolli sanitari, hanno ridotto capienze, scaglionate le presenze dei clienti e, di conseguenza, hanno già pagato un prezzo altissimo alle emergenze. A queste attività economiche lei ha promesso congrui ed immediati ristori che, giuridicamente, come sa, non esistono. Mance, indennizzi. Ieri ha convocato Consiglio dei Ministri che ha varato un decreto di cui ancora non conosciamo né testi né allegati a coperture e, ancora una volta, ha preferito la conferenza stampa al dialogo col Parlamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, ha facoltà di rispondere. Prego. Onorevoli interroganti, confermo, l'ho già ricordato nel primo quesito, nella prima interrogazione che mi è stata posta. Abbiamo inserito nel decreto legge, che è stato appena approvato, misure di sostegno immediato ai lavoratori e alle imprese che più sono direttamente interessate dalle nuove misure restrittive. Contiene interventi, questo decreto legge, per 5,4 miliardi di euro in termini di debitamento netto che mobilitano risorse già disponibili in bilancio a legislazione vigente. Innanzitutto, oltre 2 miliardi sono stati riservati a un nuovo contributo a fondo perduto per le attività dei comparti interessati dalle disposizioni del nuovo DPCM, con livelli di ristoro, li possiamo chiamare indennizia anche se preferisce, differenziati a seconda dell'intensità del danno economico, del pregiudizio economico subito dalle categorie. L'entità degli importi corrisposti varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza dal decreto rilancio, in funzione dei danni economici subiti dalle categorie. E ancora, una novità rispetto al presente fondo perduto riguarda l'estensione del diritto al ristoro ad attività che, come ho già detto e sottolineato, hanno un volume di affari superiore ai 5 milioni di euro. Il ristoro è pari al 10% del calo del fatturato e il tetto massimo di indennizzo è pari a 150 mila euro. In aggiunta, per ulteriori sei settimane sarà rifinanziata la Cassa Integrazione Ordinaria, l'assegno ordinario della Cassa Integrazione Inderoga, legati all'emergenza Covid-19. Si è poi provveduto ad estendere il credito d'imposta del 60% sugli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito continuerà ad essere cedibile al locatore e sarà esteso anche a volumi di affari, anche qui, superiori ai 5 milioni di euro. Abbiamo inoltre disposto l'esenzione della seconda Rataimu che scade il prossimo 16 dicembre. A favore delle filiere dell'agricoltura, della pesca, dell'acqua e cultura è stato istituito un fondo da 100 milioni di euro, volta a concedere contributi a fondo delle imprese e del settore. Abbiamo inoltre stanziato un miliardo di euro a sostegno del mondo della cultura e del turismo. Inoltre, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, viene istituito un apposito fondo da 50 milioni di euro per il 2020, volto a preservare le attività di interesse generale che queste associazioni svolgono per le comunità e per i nostri giovani. Infine, abbiamo predisposto un insieme di interventi volte a rafforzare la risposta sanitaria all'emergenza epidemiologica. Tra questi, sono stati stanziati 30 milioni di euro per favorire la somministrazione di tamponi rapidi presso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta. Nel momento in cui vi parlo, credo che sia stato annunciato, sia per essere annunciato il rinnovo del contratto di categoria che faciliterà proprio tra le clausole inserite anche il coinvolgimento di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, nella somministrazione dei tamponi. Grazie. Presidente, vorremmo poterle dire che siamo soddisfatti delle sue parole. Purtroppo questo decreto arriva dopo che il Governo ha consumato la sua residua credibilità. Lo ha fatto con provvedimenti dai nomi altisonanti, ma di scarso impatto pratico. Lo ha fatto con decreti che tendono ancora a 200 provvedimenti attuativi. Lo ha fatto impiegando quattro mesi per origare un bonus mobilità che stiamo attendendo. Per non parlare della cassa integrazione ai lavori dipendenti, che è stata pagata aprile o maggio, ma da giugno in poi non si è visto nulla. I lavori autonomi hanno avuto 600 euro e hanno visto la loro attività bloccata per sei mesi, 100 euro al mese, e l'indennezzo per mancato fatturato all'impresa è stato dato solo aprile. Un indennizzo di questo tipo, se un'impresa aveva 100 mila euro di fatturato in sei mesi, ha visto 5 mila euro di indennizzo. I prestiti bancari con garanzia sono stati erogati col contagocce, perché le banche stanno ancora svolgendo le istruttorie. Non ci si può meravigliare quindi che commercianti, artigiani, ristoratori, tutte le categorie travolte anche dalle urgenze economiche abbiano una totale sfiducia verso le istituzioni. Per tenere unito questo Paese, per evitare che la situazione degeneri, occorre cambiare passo. Le emergenze vanno scongiurate e non rincorse. Sapevamo da aprile che con la riapertura delle scuole si spostavano 9 milioni di persone che ora viaggiano a massate ogni giorno. Sapevamo da aprile che era necessario ampliare la capacità di fare tamponi e tracciamento e abbiamo code di ore per i test. Sapevamo da aprile che erano necessari vaccini influenzali, ma nessuno li trova. Sapevamo da aprile che sarebbe arrivata una seconda ondata e che cosa abbiamo fatto di concreto per sanità, scuole, trasporti. È stato fatto un piano di emergenza in questi settori? No. E allora lockdown. Non c'è altra alternativa. Sono passati sei mesi nei quali l'unico piano che abbiamo visto è stato quello di tenere le dite incrociate per il calo dei contagi e un Paese bloccato in attesa dell'esito delle elezioni del 20 settembre. Noi non siamo gli Stati Uniti e non ce lo possiamo permettere. O Fox semplicemente manca solo la capacità. Ed ecco perché il Paese non si fida più di voi. Per tutto questo, Presidente, l'attendiamo di nuovo qui per comunicazione in quest'Aula. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1841. Deputati Cripp ed altri, concernente i chiarimenti in ordine a entità, modalità e tempistica di erogazione delle risorse da destinare al sostegno delle attività maggiormente colpite, l'allegato del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. La deputata Maria Soave Alemanno, a facoltà di illustrare le interrogazioni di cui è cofirmataria. Prego. Grazie, Presidente. Da marzo gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno spinto il Governo a prendere misure di sostegno all'economia per oltre 100 miliardi di euro. Ai drammatici effetti del virus sulla salute dei cittadini, infatti, si sono aggiunti quelli riguardanti le attività economiche. Purtroppo, nelle ultime settimane, il Covid ha accelerato ulteriormente la sua diffusione in tutto il pianeta. In ragione di ciò, il Presidente Conte ha firmato il DPCM 24 ottobre, con nuove misure per fronteggiare l'emergenza, e ieri è stato adottato un ulteriore decreto legge per sostenere l'occupazione e le attività economiche più colpite dalle nuove restrizioni. Si chiede di sapere quale sia l'apporto economico-finanziario, la modalità e la relativa tempistica che il Governo prevede nel decreto ristoro. Grazie. Grazie, Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. A facoltà di rispondere. Prego. Onorevoli interroganti, rispondo anche a voi. Ovviamente sintetizzo delle risposte che ho già offerto nelle precedenti interrogazioni, in replica alle precedenti interrogazioni. Nel decreto che abbiamo adottato, e tra l'altro sottolineo l'abbiamo programmato già quando stavamo per firmare il DPCM e prima di firmarlo ci siamo assicurati che ci fossero i fondi e avevamo già bozzato più o meno i ristori. Contiene 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e soprattutto è concentrato sui contributi a fondo perduto per quelle attività che sono più direttamente coinvolti e che subiranno l'impatto negativo dalle nuove misure restrittive. Peraltro la modalità scelta per l'erogazione è quella che si è rivelata più spedita negli scorsi mesi, cioè l'erogazione direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate con accreditamento sull'Iban dei diretti interessati. L'entità degli importi corrisposti varierà dal 100% al 400% di quanto presso in precedenza con il decreto rilancio, in funzione appunto dei pregiudizi economici che verranno denunciati e subiranno le categorie. Stiamo parlando di bar, ristoranti, gelaterie, pastriccerie, taxi e noleggio con conducente, attività ricettive, centri sportivi, cinema, teatri, altri centri ricreativi, discoteche. La platea dei beneficiari, l'ho già sottolineato, riguarderà anche le imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro che erano state in precedenza tagliate fuori, con un ristoro parla al 10% del calo del fatturato nel limite massimo di 150 mila euro. Per coloro che avevano presentato domanda per i contributi del decreto rilancio è prevista l'erogazione automatica sul contorrente. Confidiamo di farla breve, 15 novembre, Puntano richiede il nuovo ristoro con l'erogazione prevista entro il 15 dicembre e anche le attività che non avevano richiesto già i contributi in precedenza. Poi c'è anche un finanziamento di ulteriori 6 settimane della Cassa Integrazione per i lavoratori delle attività interessate alle restrizioni, indennità specifiche per i lavoratori autonomi, gli intermittenti del mondo dello spettacolo e del turismo dello sport. Poi c'è il reddito di emergenza, verrà riproposto con una nuova trans mensile a partire da 400 euro, esigibile a tutti coloro che ne avevano già diritto e da chi nel mese di settembre ha percepito un reddito familiare inferiore al beneficio stesso. Poi c'è anche a favore della filiera dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacultura un fondo da 100 milioni di euro e ancora, ho già detto, ci sono delle misure anche per rafforzare la risposta sanitaria, tra cui 30 milioni di euro per favorire la somministrazione di tamponi rapidi presso medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Grazie. Grazie a facoltà di replicare il deputato Marino, prego. Grazie Presidente Conte, lei sa che il Movimento 5 Stelle ha colto con preoccupazione, così come tutti gli italiani le nuove misure di contenimento della pandemia. Ma non siamo ciechi e vediamo anche quanto sta accadendo negli altri Paesi europei. Pensiamo alla Svizzera, alla fosca ipotesi che i loro pazienti vengano un giorno curati in base alle rispettive possibilità di sopravvivenza. Consci dei nuovi pesanti sacrifici che tutti gli italiani sono chiamati a fare oggi per la tutela della salute, che resta il bene più prezioso, abbiamo chiesto però due cose molto chiare, Presidente, con gruità e tempi strettissimi nell'erogazione dei ristori per le imprese e per i lavoratori. Dico in maniera convinta ora di fronte a lei che questo decreto ideato, concertato, emanato in tempi che credo abbiano pochi precedenti, questo decreto va nella giusta direzione e questo non fa che rafforzare la nostra fiducia nei suoi confronti e nei confronti del Governo tutto. Vede, Presidente, siamo convinti che usciremo vincitori da questa sfida così difficile, una sfida contro un nemico invisibile e imprevedibile che sta mettendo a dura prova tutti noi e tutti gli italiani. Il Movimento 5 Stelle è con lei e con il Governo tutto ed è pronto a triplicare gli sforzi per trovare il modo migliore di difendere il Paese e i suoi cittadini, senza distinzione di sorta perché nessuno deve rimanere indietro. Vede, il tempo sarà galantuomo, come sempre accade, e arriverà il giorno in cui si capirà chiaramente chi è davvero vicino al popolo e chi invece strumentalizza comprensibili proteste, pensando esclusivamente al proprio ritorno elettorale, incurante delle conseguenze e dei rischi di destabilizzazione di un Paese che però ha la forza e il coraggio per vincere anche questa sfida. A nome del Movimento 5 Stelle esprimo la nostra vicinanza a tutti gli operatori della sanità che sono sul fronte in questo momento e alle nostre forze dell'ordine vittime di indegni e inaccettabili attacchi. Restiamo uniti, Presidente, e ce la faremo. Passiamo all'interrogazione numero 3842 del deputato Rospi, concernente chiarimenti in ordine alla consistenza e ai tempi di erogazione della risorsa destinata al sostegno degli imprenditori e delle famiglie a seguito delle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 iniziative volte a rivedere la chiusura delle attività culturali. Il deputato Sciullian, facoltà di illustrare l'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Prego Sciullian. Grazie Presidente. Signor Presidente, ammetto che lei ha già risposto per buona parte a questa interrogazione che mira a sapere quali siano le prospettive di indinizio o di ristoro a favore delle categorie colpite dagli ultimi DPCM e quali sia l'intenzione e le prospettive del Governo in ordine alla chiusura delle attività culturali pure disposte con il DPCM del 24 ottobre. Grazie. Grazie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha facoltà di rispondere. Prego. Onorevoli interroganti, prendo anche atto nel vostro intervento di richiamo. Avete già sottolineato che per buona parte ho risposto all'interrogazione che mi avete posto, però anche per cortesia istituzionale riassumo anche a voi che con questo decreto legge confidiamo di intervenire con misure di sostegno a favore delle imprese più direttamente colpite dalle misure restrittive dell'ultimo DPCM e a favore anche dei lavoratori interessati da questi comparti. I comparti riguardano ormai chiaro soprattutto la ristorazione, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, attività dei centri sportivi, delle palestre, centri ricreativi, discoteche, cinema, teatri e anche taxi, noleggio con conducente. E' incentrato soprattutto sull'erogazione di ristori nella forma più rapida possibile. Ci rendiamo conto della sofferenza economica, sociale, del forte disagio e del senso anche di frustrazione che tanti lavoratori, tante famiglie, tanti operatori economici stanno accumulando. Di qui la chiusura del DPCM e la sottoscrizione solo quando siamo stati sicuri di aver trovato una modalità e somme sufficienti per operare delle compensazioni. Compensazioni per 5,4 miliardi di euro in termini, l'ho già detto, di indebitamento netto. L'erogazione avverrà del fondo perduto, dei contributi al fondo perduto tramite l'agenzia delle entrate e sarà estesa questa volta. Anche operatori economici che fatturano oltre 5 milioni di euro e è prevista un'erogazione automatica per tutti coloro che già hanno avuto in virtù dei contributi previsti dal decreto rilancio subito entro il 15 novembre e per gli altri comunque confidiamo entro il 15 dicembre. Inoltre ci sono misure di sostegno per i lavoratori, per le imprese più in generale. Ho fatto riferimento alla Rata Imo, ho fatto riferimento a credito d'imposta per quanto riguarda gli affitti commerciali e in ogni caso queste restrizioni che anche altri partner europei hanno adottato, stanno adottando, rispondono a una precisa strategia del governo volta gestire la pandemia senza rimanere sopraffatti perché l'esperienza ci insegna che tutelando la salute, preservando la salute pubblica e la salute dei singoli cittadini, noi preserviamo anche, possiamo proteggere meglio il tessuto economico produttivo del Paese. Ridurre le occasioni di contagio in questo momento rappresenta l'unica possibilità che abbiamo per consentire da un lato la tenuta del sistema sanitario nazionale, dall'altro per scongiurare un secondo lockdown generalizzato che danneggerebbe in misura ancora maggiore l'economia del Paese. Grazie Presidente. Sono parzialmente soddisfatto della sua risposta e le dico il perché. Oggi ci troviamo in questa situazione dopo le distrazioni e tanti errori fatti durante l'estate, come l'avere incentivato la mobilità dei cittadini, per esempio attraverso il valcio e vacanze o aver riaperto le discoteche e le sale d'abballo. E poi, Presidente, dopo aver messo in campo diverse misure e investito ben 130 miliardi in debito, si è fatto, a mio avviso, ben poco per quanto riguarda le attività di prevenzione. La Pimmuni, per esempio, è rimasto un luogo sui nostri cellulari. Se non comunica con le aziende sanitarie serve a ben poco. Il sistema di tracciamento con i tamponi si è dimostrato non adeguato, tempi lunghi e pochi tamponi. Ora che la curva è diventata esponenziale, sarà praticamente impossibile ripristinare il sistema di tracciamento. Esiste un serio rischio di collasso del nostro sistema sanitario, anche perché le misure prese con l'ultimo DPCM non porteranno i risultati sperati. E poi, non penso che la chiusura dei luoghi della cultura sia la sola misura utile, soprattutto se non si interviene con immediatezza sulla gestione del trasporto pubblico, dove si è spesso costretti a viaggiare ammassati gomito a gomito. In questi casi la mascherina può fare poco. E poi, Presidente, con le raccomandazioni non penso si possano risolvere i problemi. Come ne usciamo? Oggi, colleghi, siamo in una guerra contro un nemico invisibile molto potente. In una situazione di guerra i Paesi forti si distinguono perché riescono a stabilire un clima di unità nazionale che coinvolga tutti, dalle opposizioni alle diverse istituzioni territoriali. Allora, Presidente, colga il mio suggerimento, istituisca subito un travolo di lavoro composto da tutti i gruppi politici, in maniera tale da lavorare in maniera condivisa in un'unica direzione e con un solo obiettivo, il bene comune di tutti i cittadini. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3843. Deputati Fornaro ed altri, concernenti iniziative volte a scongiurare la chiusura del sito Whirlpool di Napoli e salvaguardare i livelli occupazionali. Il deputato Fornaro ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, nei giorni scorsi Whirlpool ha annunciato la dismissione e la vendita dello stabilimento di Napoli a terzi, nonostante i conti della multinazionale siano positivi. L'accessazione della produzione comporterebbe la cancellazione di quasi mille posti di lavoro tra diretti e indiretti, col dramma che ne deriva per i lavoratori e le loro famiglie e cogliamo l'occasione per dichiarare la nostra solidarietà ai lavoratori in lotta in queste ore a Napoli. È necessario, a nostro giudizio, dare una risposta concreta ai lavoratori con un nuovo e diretto impegno del management di Whirlpool al tavolo per offrire solide prospettive di occupazione. Le chiediamo quindi di convocare al più presto, in accordo col Ministero per lo Sviluppo Economico, un tavolo a Palazzo Chigi, con l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori per scongiurare la chiusura del sito Whirlpool di Napoli, che, lo ricordo, è uno dei siti più importanti che oggi in realtà produttive è rimaste a sud del Paese, con l'obiettivo di salvaguardare l'attività e la prosecuzione dell'attività dell'azienda e i livelli occupazionali. Grazie. Il Presidente della Commissione dei Ministri, Conte, ha facoltà di rispondere. Prego. In merito al quesito posto agli onorevoli interroganti, ricordo che Whirlpool, già dallo scorso settembre 2019, aveva deciso di cedere lo stabilimento di Napoli definendo il sito non produttivo. Successivamente, però, il 30 ottobre 2019, la medesima società comunicava al Ministro Patronelli l'intenzione di revocare la procedura di cessione e di continuare la produzione di lavatrici. In linea con tale decisione, nella riunione del 29 gennaio 2020, si sono verificate le condizioni per garantire la continuità produttiva alla tutela dei lavoratori dello stabilimento di Napoli. L'azienda stessa, peraltro, manifestava la disponibilità a mantenere le attività produttive, quantomeno fino al 31 ottobre 2020. Tuttavia, nell'ambito delle interlocuzioni avvenute successivamente, l'azienda ha ribadito le difficoltà nel proseguire la produzione dello stabilimento di Napoli, oltre la data del 31 ottobre. Da ultimo, lo scorso 22 ottobre, l'azienda ha evidenziato di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per il modello di lavatrici di alta gamma prodotto proprio nel sito di Napoli, pur ritenendo l'Italia un paese strategico, dove addirittura prevede di investire 250 milioni di euro entro il 2021. Whirlpool ha confermato il 31 ottobre come data di cessazione della produzione di Napoli. Nel confermare tale decisione, la multinazionale ha affermato che avrebbe comunque garantito la retribuzione dei lavoratori fino al 31 dicembre di quest'anno e solo dopo tale data avrebbe avviato le procedure di licenziamento. L'azienda si è resa infine disponibile a collaborare con il Governo e con tutte le istituzioni coinvolte. E preso atto di tale decisione, il Ministro Patonelli ha dato riscontro alle richieste dei sindacati approvando l'istituzione di un tavolo permanente. I lavoratori legati allo stabilimento, circa 400 diretti, a cui però dobbiamo aggiungere all'incirca 500 dell'indotto, sono in stato evidentemente di agitazione, di fibrillazione. E anche oggi, notizia di oggi, qualche ora fa, un presidio dipendente lo stabilimento è in sciopero. A tal proposito vorrei ribadire l'impegno massimo del Governo a fare tutto ciò che è necessario per preservare l'occupazione dei lavoratori di Napoli, per rilanciare le prospettive industriali del sito produttivo. È stato appena diffuso, credo, proprio poco fa, un comunicato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che attesta l'impegno del Governo, mio personale e del Ministro Patonelli, di contattare i vertici della multinazionale per assicurare la massima premura del Governo italiano affinché vi sia una soluzione al segno della continuità aziendale, della protezione di un presidio produttivo che riteniamo essenziale per Napoli e per l'intero territorio campano. Sono diversi, infatti, gli strumenti di supporto, di attrazione degli investimenti a disposizione del Governo, come quelli contenuti agli ultimi provvedimenti legislativi. Molteplici sono anche possibili interventi diretti per il rilancio industriale, come anche dimostra la creazione di un polo di compressori, nato proprio dalla risoluzione delle crisi di Imbraco e di ACC. Quindi faremo il massimo per preservare questo presidio produttivo. Grazie. Facoltà di Repubblica del Deputato Epifani. Prego. Sì, io credo che questa che lei adesso ha indicato e confermato sia la strada più breve e migliore per provare a uscire da questa situazione. Perché una cosa non convince. Ma perché chiudere adesso? È possibile che la Whirlpool non si accorga che durante una pandemia, che brucia lavoro, brucia occupazione, riduce la condizione delle persone e delle aziende, un segno di chiusura in questa fase rappresenta innanzitutto per l'immagine della Whirlpool un colpo devastante. Ma ci battiamo per avere più cassa integrazione, licenziamenti bloccati e poi dovremo assistere alla chiusura di un sito importante in un'area come quella di Napoli che produce in un settore la cui dinamica di mercato oggi è paradossalmente migliore di quella di due anni fa e gli stessi conti dell'azienda. Per questo è incomprensibile. Già nel passato la Whirlpool ha cambiato un paio di volte idee. Io spero che con l'intervento massimo suo e del Ministro, con la disponibilità che già era stata messa e che può essere riterata e ampliata a trovare le modalità, si creino le condizioni per cosa? Per passare almeno questa fase, io voglio essere realista, per consentire il proseguo dell'attività in questa condizione e prendere il tempo per trovare poi una soluzione definitiva. Io non riesco a capacitarmi perché il Paese debba perdere proprio in questa fase un presidio produttivo in un'area come Napoli con lavoratori professionali e da parte di una multinazionale che ha mezzi e risorsi, se vuole, di continuare a investire e operare a Napoli il bene dei lavoratori di se stessa. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3844. I deputati Guidesi ed altri, concernente chiarimenti in ordine dei dati scientifici alla base delle chiusure risposte alle grado del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e intendimenti in ordine a possibile modifiche. Il deputato Guidesi ha fatto l'interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, con questa interrogazione siamo a chiederle su quali basi scientifiche lei abbia preso la decisione con l'ultimo DPCM di chiudere alcune attività che tra l'altro già si erano adeguate ai protocolli sanitari indicati a suo tempo, incuriositi da come una cena distanziata o una personale lezione in palestra o uno spettacolo teatrale distanziato possono essere più rischiosi di un bus o di un vagone affollato. Inoltre siamo a chiederle Presidente che fino hanno fatto le proposte preestive sia delle opposizioni che delle regioni in materia sanitaria e in materia economica. Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, facoltà di rispondere. Prego. Il quadro europeo relativo alla diffusione dell'infezione da Covid-19 è allarmante. Molti Paesi presentano un notevole incremento nel numero di nuovi casi positivi e come state vedendo, proprio in queste ore anche Francia e Germania sono state costrette a preannunciare severe misure restrittive. In Italia, nonostante le misure finora adottate, la diffusione del contagio ha raggiunto un picco massimo di 21.994, quindi quasi 22.000 casi ieri e si osserva un'accelerazione, un progressivo peggioramento dell'epidemia segnalato ormai da 12 settimane. Il forte incremento dei casi ha portato all'incidenza accumulativa, se guardiamo gli ultimi 14 giorni, a 146,18 per 100.000 abitanti contro 75 per 100.000 abitanti nel periodo 28 settembre e 11 ottobre. Sulla base di tale incremento è risultato necessario rafforzare misure per tenere sotto controllo la curva epidemiologica, salvaguardare la salute pubblica. In vista di una possibile ripresa autunnale della circolazione del virus, l'Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute, con la Conferenza delle Regioni e con altri organismi di ricerca nazionale, ha reso pubblico il documento che si intitola Prevenzione e risposta a Covid-19, evoluzione della strategia pianificazione della fase di transizione autunno-inverno. In tale documento sono rappresentate, in relazione all'evoluzione degli scenari epidemiologici, le specifiche e diverse modulazioni delle possibili misure da adottare. Allo Stato l'epidemia in rapido peggioramento risulta compatibile a livello nazionale, perché ormai è abbastanza uniforme, con lo scenario di tipo 3 descritto nello studio, con rapidità di progressione maggiore in alcune regioni italiane. In particolare per lo scenario di tipo 3 lo studio menzionato prevede, tra le altre misure, possibilità di interruzione di alcune attività sociali e culturali maggiormente a rischio, quali discoteche e bar anche su base oraria. Incentivazione del lavoro agile, la fine di ridurre l'affollamento dei trasporti pubblici e delle sedi lavorative. Per quanto riguarda la scuola, la possibilità di attivare le elezioni scaglionate a rotazione, mattina, pomeriggio, possibilità della didattica a distanza, chiusure temporanee in funzione del numero dei casi sospetti nella singola comunità scolastica. A tali misure, proprio dello scenario di tipo 3, si è tenuto il Governo nell'adozione del recente DPCM. Non solo. Preciso che una volta elaborato il quadro delle nuove misure da inserire nell'ultimo DPCM, nel primo pomeriggio di sabato scorso 24 ottobre, il Governo e la persona del Ministro della Salute ha inviato la bozza al Comitato Tecnico Scientifico sollecitando un parere degli esperti anche sul merito delle specifiche misure. Con verbale numero 121, reso qualche ora più tardi dello stesso giorno, il CTS, leggo letteralmente dopo ampi analisi, condivide i provvedimenti previsti del testo, formulando alcune limitate osservazioni che il Governo, peraltro, ha sostanzialmente recepito. Presidente, se così fosse, è evidente che il suo provvedimento è totalmente incoerente rispetto alle indicazioni sanitarie dei protocolli che avevate dato alle stesse attività che avete chiuso alcuni mesi fa. Per cui le spese che hanno fatto sono risultate assolutamente inutili. Sulle proposte in materia economica sanitaria le dico io dove sono finite. Le proposte economiche della Lega sono finite nel piano Colau. Una task force da lei formata e poi totalmente inascoltata. I ristori. Mancano ancora dei ristori rispetto al primo bonus, Presidente. Se va sul sito dell'Agenzia delle Entrate veda che alcune richieste sono ancora in fase di lavorazione. Come mancano alcuni pagamenti della Cassa Integrazione. E nel decreto di ieri vi siete dimenticati di prevedere i ristori per tutte le filiere che lavorano con le attività che avete chiuso. I manutentori, i fornitori, i fieristi, eccetera, eccetera, eccetera. E non basteranno quei soldi. Invece le proposte delle Regioni sono rimaste ferme nella conferenza Stato-Regioni. Non gliele cito tutti, gliele può citare qualche governatore del partito che governa insieme a lei perché quelle proposte non avevano colore politico. Presidente, la verità è che in questi sei mesi vi siete tanto occupati di creare l'aspettativa rispetto ai fondi del recovery fund che non ci sono ancora adesso sui papabili investimenti e sulla data del vaccino che ancora non c'è adesso. Di questo vi siete occupati in questi sei mesi e non di prevenire la seconda ondata della pandemia. Presidente, non esistono attività non indispensabili. La dignità non è data dal lavoro che ci fa, ma dal fatto di poterlo fare. Ascolti, Presidente, le nostre proposte sono ancora lì e sono ancora lì quelle delle Regioni. Ascolti prima che sia troppo tardi. Lei non ha nemmeno il limite della coerenza. Perché stamattina abbiamo iniziato i lavori votando una pregiudiziale su un decreto da lei firmato che cancella i decreti sicurezza sempre da lei firmati. Pensi un po'. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1845, dei deputati Lollo, Brigio ed altri, concernente chiarimenti in ordine dati scientifici alla base delle misure disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, anche in relazione all'asserita carenza di pubblicità dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico. Il deputato Foti, a favore dell'illustrale interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, Foti. Signor Presidente, lei con un atto amministrativo, ovviamente notturno, ha messo in crisi centinaia di migliaia di piccole imprese e gettato nella disperazione i loro titolari. Vede, Presidente, quell'atto amministrativo richiama verbali del Comitato Tecnico Scientifico, ma neppure sono allegati, sempre per via che lei era l'avvocato dei cittadini e si ispirava alla trasparenza. Allora Fratelli d'Italia le dice Basta, Presidente Conte, con le passerelle mediatiche. Basta, Presidente Conte, con il considerare quest'Aula un covo di figuranti. Presidente Conte, noi provvedimenti li vogliamo discutere e votare in Parlamento, non subirli dall'alto della sua protervia. Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a facoltà di rispondere. Come abbiamo già sottolineato, il quadro europeo relativo alla diffusione di questa pandemia è molto preoccupante. Il Governo, a partire dalla prima ondata della pandemia, non ha mai smesso di investire per rendere più resiliente l'intero sistema nazionale, potenziando in particolare il servizio sanitario e la scuola. Solo gli investimenti in questi due comparti dall'inizio dell'anno ammontano a oltre 17 miliardi di euro. Abbiamo continuato a operare per mettere in sicurezza il Paese anche quando la necessità di prorogare lo stato di emergenza veniva messa duramente in discussione, anche dal vostro gruppo e dal gruppo che ha posto l'interrogazione immediatamente precedente. Nel mese di ottobre in particolare si è assistito in Italia a un progressivo aumento dei nuovi casi giornalieri, del numero di ospedalizzazioni e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ho già fatto riferimento nella precedente risposta allo studio dell'Istituto Superiore di Sanità intitolato Prevenzione e risposta a Covid-19. In relazione all'evoluzione degli scenari epidemiologici, questo studio descrive i vari scenari, con il risultato che la nostra curva epidemiologica allo Stato risulta complessivamente compatibile con lo scenario di tipo 3. Il Governo, nell'adottare l'ultimo DPCM, si è attenuto a questo scenario conformando le misure restrittive a quelle adeguate e proporzionate a questa fase evolutiva della pandemia. Non abbiamo quindi adottato misure secondo un criterio meramente arbitrario, né operando una gerarchia di valori tra le attività, con il risultato di apprezzarne alcune a discapito di altre. L'insieme delle misure va valutato in termini unitari e complessivi, come pure gli effetti non dovranno essere valutati in questi primi giorni, ma nell'arco di circa due settimane. Tutte le misure messe in campo rispondono alla necessità di tenere sotto controllo la curva dei contagi, di mitigare la diffusione della pandemia. Con lo smart working ristoro il ricorso alla didattica a distanza dalle scuole superiori di secondo grado, contiamo di ridurre le occasioni di incontro, di alleggerire a flusso dei mezzi di trasporto durante il giorno. Stesso criterio è stato adottato per le ore serali. Abbiamo ridotto tutte le occasioni di socialità che spingono le persone a uscire nella fascia serali e a spostarsi con i mezzi pubblici. Di qui la decisione di sospendere le attività di ristorazione dopo le ore 18, di tenere chiusi cinema e teatri. Diminuendo le occasioni di socialità, abbassiamo anche il numero dei contatti che ognuno di noi può avere, rendendo anche più facili i tracciamenti del caso una persona risulti positiva al virus. Siamo pienamente consapevoli che si tratta di misure severe ma le riteniamo assolutamente necessarie per contenere i contagi. Lei non ha ricordato nel suo intervento iniziale che abbiamo avuto un confronto, ho illustrato preventivamente le misure ai capigruppo di maggioranza e di opposizione. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano e per quanto riguarda la pubblicità degli ultimi verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico ricordo che il Governo lo scorso 4 settembre ha deciso di procedere alla pubblicazione dei verbali decorsi 45 giorni dalla data della relativa riunione. Questo differimento si giustifica in quanto si rende necessario valutare con rigore e ponderazione i diritti e gli interessi pubblici e privati coinvolti. Grazie. Facoltà del Precato del Deputato Foti, prego. Signor Presidente, le avevamo chiesto dei dati, ci ha fatto una predica. Peccato che si sia dimenticato di dire alcune cose. Comunicare l'esito di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non significa discutere con i gruppi di opposizione, accogliere le loro proposte e confrontarsi. Lei pensa di essere un decisore, l'hanno illuso di essere tale. In realtà sta guidando una nave senza nocchieri in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. E le dirò di più, Signor Presidente. Lei non ha detto e non ha citato un dato che giustifichi le chiusure che ha fatto. Ci dica qual era la diffusione della Covid nel settore della ristorazione, nel settore dei pub, nel settore dei ristoranti, nel settore delle palestre. Perché questo è il dato che le avrebbe dovuto dare. E allora io ringrazio i colleghi Cagliata, Zucconi e Traccassini che da ristoratori stanno attuando quello sciopero della fame che è solo anticipatore di ciò a cui lei le ridurrà e cioè alla fame. Bene, Signor Presidente del Consiglio, noi avremmo capito un provvedimento ponderato, ma lei lo sa cosa ha fatto. Prima avete chiesto a tutti gli operatori economici di adeguarsi a dei protocolli. Si sono adeguati e appena si sono adeguati li avete chiusi. Vuole sapere cosa avete fatto con le palestre? Ancora peggio. Lei, venerdì mattina, ha un rappresentante del suo governo che firma un decreto con il quale stabilisce delle nuove linee guida per le palestre e i centri sportivi e la domenica mattina li avete chiusi. Ma dove pensate di poter andare? Ma come pensate di poter continuare a prendere in giro il popolo italiano? Signor Presidente, se ne vada, ha già fatto troppi danni. Passiamo all'internazione numero 3846, deputati nobili ed altri concernenti iniziative volte a prevedere l'utilizzo da parte della flotta del trasporto commerciale per ovviare alla situazione di sovraffollamento nei servizi del trasporto pubblico locale, nonché per una riforma strutturale del trasporto pubblico. La deputata Paita ha facoltà di illustrare la propria interrogazione. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, non è la prima volta che Italia Viva pone il problema del trasporto sottolineando criticità e preoccupazioni. Lo abbiamo già fatto rivolgendoci alle Ministre De Micheli e Azzolina. Per noi questa è un'occasione importante per capire sui 100 miliardi di scostamento di bilancio quante risorse reali sono state destinate ai trasporti. A noi risulta 300 milioni e ci sembra pochissimo ma le chiediamo di aiutarci a fare chiarezza sul tema. Abbiamo poi esaminato l'ultimo decreto di storie e dalle prime bozze neppure lì abbiamo trovato nulla e questo ovviamente ci preoccupa. Tutti capiscono che il trasporto locale è uno dei settori potenzialmente più pericolosi per la trasmissione del virus. Ogni giorno abbiamo testimonianze di una situazione preoccupante nelle grandi città. È giusto fare appelli per evitare assembramenti ma poi non possiamo permettere che si verifichino proprio sui servizi pubblici. Noi abbiamo in pieno spirito collaborativo avanzato delle proposte come quelle di usare per il TPL le migliaia di bus turistici taxi e NCC fermi con gli autisti attualmente in casa integrazione. Signor Presidente del Consiglio consapevoli della situazione di difficoltà che il Governo sta gestendo vi chiediamo uno scatto su questo tema e di agire subito con forti investimenti perché le nostre città possano davvero ripartire perché le attività possano davvero riaprire e i nostri ragazzi possano in futuro andare in sicurezza a scuola. Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha facoltà di rispondere prego l'esigenza con il Comitato con il Comitato Tecnico Scientifico i titolari dei servizi di trasporto pubblico locale con i responsabili dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico dedicato regioni e enti locali. L'intesa del 31 agosto 2020 raggiunta in sede di conferenza unificata ha contemplato inoltre lo stanziamento di 300 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale di 150 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico dedicato. Nel corso dell'incontro di coordinamento avuto in queste settimane dalla Ministra De Micheli il Governo ha confermato l'istituzione di tavoli operativi permanenti per la risoluzione delle situazioni di maggiori criticità. Il MIT sta anche intervenendo per il rafforzamento dei controlli e il costante monitoraggio dell'andamento della domanda anche collegata agli orari di apertura delle scuole e dei luoghi di lavoro e il conseguente incremento in caso di necessità del numero di corse. Da parte loro le regioni e enti locali hanno confermato di aver già incrementato i mezzi per le tratte con maggiore domanda utilizzando 120 allo Stato dei 300 milioni di euro a disposizione che hanno consentito ad oggi l'utilizzo di circa 2.000 mezzi di trasporto privati aggiuntivi con conseguente potenziamento di oltre 4.000 tratte oltre al potenziamento dei controlli da parte del personale sulle banchine nelle aree di sosta dei mezzi garantendo l'intervento anche a seguito delle segnalazioni di criticità con i decreti legge rilancio e semplificazione è stata specificamente prevista poi la possibilità di ricorrere ai taxi e ai servizi NCC per potenziare i servizi di trasporto pubblico e le istituzioni di buoni viaggio per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi o NCC e sono state introdotte procedure semplificate per l'affidamento dei servizi aggiuntivi a dette risorse si aggiungono quelle finalizzate alla compensazione ai minori ricavi 900 milioni quelle destinate al finanziamento dell'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto e i trasferimenti ordinari effettuati a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nella prossima legge di bilancio troverete anche ulteriori risorse destinate a questa finalità ma è evidente che a dispetto delle varie iniziative e degli investimenti e delle misure adottate vi sia dobbiamo riconoscere un'oggettiva difficoltà di assicurare che le regole di distanziamento certificate anche dei protocolli pur severi di sicurezza siano sempre rispettate da tutti gli utenti dei servizi di trasporto nel corso dell'intera giornata e anche per questo che nell'ultimo DPCM abbiamo approvato misure anche cercando di alleggerire l'afflusso sui mesi di trasporto pubblico quindi nelle ore diurne incrementando la didattica a distanza per le scuole superiori e rafforzando il ricorso allo smart working nelle PA nelle pubbliche amministrazioni ma raccomandandolo anche nelle aziende private nelle ore serali poi con la sospensione delle attività di bar e ristoranti alle ore 18 la chiusura di cinema e teatri grazie a facoltà di replicare il deputato Nobili 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 Nobili